1 e 2 settembre 2018, Regione Umbria, provincia di Perugia. Sei comuni coinvolti nel percorso. Cerreto di Spoleto, Norcia, Santa Anatolia di Narco, Scheggino, Spoleto e Vallo di Nera. Quattro percorsi per diverse sfide, tutte tra la vecchia ferrovia che collega Spoleto in Norcia. Un'unica protagonista, la mountain bike. Icarus vi aspetta a settembre per vivere uno dei più grandi e apprezzati eventi di MTB d'Italia. Spoleto in Norcia, in MTB. Continuate a seguirci.